benvenuto sul canale nd e italia esperienze oltre il velo dove condividiamo le esperienze di premorte di persone che raccontano di aver visitato l'altro lato e di essere tornate l'n di oggi è di crista ecco la sua esperienza il mio cuore si fermò alle 9 18 del mattino non c'è una cosa come il momento della morte l'istante in cui non ci sono più segni di vita e il momento in cui la nostra coscienza lascia il nostro corpo sono piuttosto un continuo da un punto di vista cosciente passarono alcuni secondi fra l'essere nel corridoio e la visuale che io ebbi dall'alto cosa accade la mia coscienza durante questo intervallo io non lo so forse la mia coscienza si raggrinzi collassando in una singolarità prima di esplodere fuori in una nuvola nero grigia di materia parcellizzata o forse traspirò dai confini del mio sé a poco a poco accumulandosi in un conglomerato di qualcosa che adesso stava volteggiando sopra il mio corpo la distanza fra la mia coscienza e il mio corpo sembrava estendersi come se lo spazio tempo si fossero distesi e adesso il mio pressoché immateriale sé stava simultaneamente nel e fuori dal mio corpo non c'era suono niente dolore e niente paura potevo vedere e guardai attorno nella stanza il soffitto aveva una pervenza fluida con alcune flebili venature solide che ancora perduravano mi vedevo distesa su un letto ero una persona mi ricordo che me lo chiesi come se non fossi del tutto sicura di cosa le persone fossero ma conservassi ciò nonostante una qualche nozione di loro quello che accadeva non riguardava più crista nel senso fisico perché ora essa era al di là del soffitto trasparente mentre salivo non mi identificavo in alcun modo con il corpo o le persone nella stanza ero piuttosto un osservatrice distaccata benché ancora crista nei limiti della mia consapevolezza avevo la mia identità terrena e mi sentivo più viva che mai era pieno di gente attorno al mio corpo adesso una persona in blu a sinistra da prima notai che si era chinata sul mio addome e poi molto rapidamente si sollevò e porse un qualcosa a qualcuno alla mia destra egli prese questo qualcosa e mi diedero rapidamente le spalle cosicché non potevo vederli ma volevo vedere una persona stava vicina alla mia testa e piazzava qualcosa sul mio petto un'altra persona in blu entrò nella stanza e stette lì come a valutare quanto accadeva poi venne alla mia destra e si unì all'iperattività attorno a me mi sentì costretta a rimanere cosa stavano facendo a quella persona cosa sarebbe accaduto alla persona sul letto mentre continuavo a guardare divenni lentamente sempre più attaccata a quanto osservavo improvvisamente una forza iniziò a tirarmi a sinistra resistetti per qualche secondo ma la forza era più potente del mio desiderio di restare mi voleva e sapevo che qualsiasi cosa volesse doveva essere importante più importante del mio desiderio di rimanere fissa in questo luogo capendo questa cosa scelsi coscientemente di lasciarmi andare nell'istante in cui questa decisione fu presa iniziai a muovermi a velocità spaventosa attraverso qualcosa che potrei solo definire come uno spazio blandamente delimitato di materia semifluida era immenso e piccolissimo allo stesso tempo sentivo come se potesse in qualsiasi momento esplodere o collassare intorno a me nessuna definizione esisteva fra la mia coscienza e quella delle sue pareti che erano composte di tale fluido come un flusso di energia mentre volavano in avanti venivo interfusa da questa energia e più proseguivo più mi sentivo permeata da un indefinibile irrefutabile sconfinato amore questo amore dio eravamo interdipendenti nessun punto di separazione esisteva eravamo l'un l'altro che beatitudine non c'era dolore non c'era ansia non c'era paura i soli sentimenti erano quelli di amore pace e gioia non desideravo nulla come non vi fosse altro da desiderare entro questo spazio mi vennero simultaneamente fornite tutte le risposte a tutte le domande della mia vita terrena con l'eccezione di una c'era una domanda a cui non sarebbe stata data alcuna risposta fu a questo punto che virai alla mia destra verso una densa nebbia di colore grigiastro mentre l'avvicinavo rapidamente potrei intravedere delle figure scure indistinte erano molto vicine fra loro all'altro lato di un ingresso avevano forma umana ma potevano essere viste solo come ombre in tale forma riconobbi una di queste figure essere un ragazzo fu il primo a entrare nella visuale e aveva le parvenzi di un piccolo tom sawyer con un cappello dalla lunga tesa e una veste voleva stare davanti a tutti e desiderava che lo riportassi nel rame fisico anche gli altri attorno a lui volevano che tornasse sentivano il mio desiderio di aiutarli e lo usavano per attirarmi non ero a mio agio entrando in questo reame non mi sembrava un luogo di amore come il precedente avrei potuto andarmene ma volevo aiutare il bambino davvero mentre mi muovevo ulteriormente in questo reame gli altri cercavano di avvantaggiarsi dal mio desiderio di aiutare e mi vennero tutti vicini il loro desiderio e volontà mi tiravano da tutte le parti erano pieni di dolore e così desiderosi di andarsene da prima volevo salvarli tutti ma capivo che era un compito troppo grande per me tra volta desiderai lasciare quel luogo e l'istante in cui il desiderio si presentò mi allontanavo dalle figure grigie via dal bambino e non guardai indietro avevo modificato la mia esperienza attraverso la mia stessa intenzione ed ero di nuovo mescolata con lo spazio sconfinato di amore divino ma vi stetti solo brevemente quando di nuovo per mia intenzione viaggiai attraverso un cancello una specie di passaggio che mi introdusse a quello che io chiamo il mio eden portai questo amore con me attraverso il cancello ed era puro una coscienza di questo amore e per tutto quello che mi circondava mentre viaggiavo attraverso questo cancello mi senti immediatamente immersa con tutto quello che era intorno a me ero un tutt'uno con i fiori gialli vibranti che spuntavano davanti a me ero una cosa sola con le cascate di acqua che venivano giù dalle rocce in un lago cristallino ero un tutt'uno con le colline distanti e verdeggianti e il tranquillo cielo azzurro sopra di loro ero un'unica cosa con il profondo verde e i colori dei fiori davanti a me che gioia trovarsi in un posto simile sentivo che ogni parte del paesaggio era un'espressione unica del divino che era stato scelto per me e da me una densa foresta contrastava con la potente scena di fiori gialli e cascate d'acqua intuitivamente sapevo che quel che si trovava fra questi alberi non era né buono né cattivo e che io ne ero parte così come ero parte di tutte le altre cose nel mio bel paradiso avevo la possibilità di addentrarmi in questa selva oscura ma provai la sensazione di sapere già quale sarebbe stata la mia esperienza lì invece scelsi di restare dove ero non volevo sperimentare altro che bellezza nonostante la foresta avesse una sua bellezza poi dall'amore che era al tempo stesso dentro e attorno a me mi venne comunicato che dovevo operare una scelta fra tre uno entrare nella foresta ma avevo già respinto quelle ipotesi la seconda scelta era di continuare nella realtà che mi attorniava adesso e la terza era di tornare nel mio corpo e riprendere la vita che avevo lasciato tuttavia se avessi scelto quest'ultima cosa avrei dovuto far fortificare questa mia esperienza rendendomi di servizio agli altri guardai la bellezza attorno a me e ancora una volta ne senti la enormità l'amore la pace e l'unità il mio battito cardiaco ritornò alle 9 26 del mattino elementi dell'nde domande a crista al momento dell'esperienza la tua vita era in pericolo credo sia stata messa in pericolo da un embolo dovuto al liquido amniotico come erano il tuo livello di autoconsapevolezza e coscienza in quel momento più cosciente e consapevole del normale tutto il tempo le cose erano percepite con una intensità maggiore specie l'amore non avevo pensieri solo sensazioni era come un sogno non ho mai sperimentato nulla di così acuto ti sembrò che la coscienza si separava dal corpo si vedi il mio corpo sotto di me solo che non sapevo di essere io al momento c'erano persone attorno questa cosa non l'ho verificata ma io sapevo che era reale hai incontrato altre creature ho incontrato un essere definito o meglio una voce di origine chiaramente mistica e non terrena gli altri esseri che erano nella luce bianco grigia erano come ombre ma umane hai avuto la sensazione di possedere una qualche conoscenza o sapienza speciale tutto riguardo all'universo tutte le domande che avevo nella mia vita terrena ebbero risposta simultanea hai avuto l'impressione di avere cognizioni o scopi speciali si che tutto è amore che dobbiamo diventarne consapevoli e vivere nell'amore la tua vita o le tue credenze sono cambiate dopo questa esperienza ampie modifiche della mia vita non appena tornai la vita prese un'energia tutta nuova sento che posso svolgere il mio compito e che lo sto facendo anche mentre scrivo questo creo e cocreo la mia vita e ne sono profondamente consapevole grazie di aver ascoltato concludiamo con un regalo per voi una frase di Seneca il giorno che temiamo come ultimo è soltanto il nostro compleanno per l'eternità